si ferma e si fece buio tuttavia una volta è stata una partita guarda che bello qui il cratere che bello qui il cratere della come si è formato con tutte le stalagmiti e c'è un altro villaggio dove? dove? come l'abbiamo stato? distruggiamolo la casa del tizio la mia la mia sviluppo tutto che schifo c'è qua dentro guarda vuole comprare un biglietto? guarda vuole comprare un biglietto? guarda vuole comprare un biglietto? oh c'è la smelterin già fatta rubatela ne hai già 4 oh c'è la schiaffo c'è uno nomi con un nitor pure butterò tra il culo eh eh così ormai non la sto usando più la towncraft però rubare è sempre bello no? si quando è gratis oh guarda quante track guarda una rolling machine dei famosi rolling stones dice che super mia allora troppo 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 guarda che bello sbrang ma c'è questa qua che guarda da su? eh? no fa schifo dallo stilio sempre buono lo stilio guarda c'è la lava che ti... porco porco riuscire che prendevano tutto ciao uuuuh da cercare i dungeons dunge e stiamo cercando i dungeons dunge e i dragoni? dovremmo andare nel land poi vero anche uno che... cosiddetto può shuttare con un colpo con il figlio di puttana veramente con il lucky bow eh si va di nuovo ma che forma hanno? c'è ma io ancora non capisco perchè ci sono delle bolle d'aria in mezzo all'oceano cioè guarda e qui guarda qua l'acqua è diversa vedi? qua l'acqua è diversa dai a vedere non lo vedi che c'è tipo una luce qua sotto? si vedi che è luce? vedi che è luce? ormai andiamo in giù c'è un cazzo no c'è un buco ecco tu c'è un buco? uh dove? qua entriamo in una caverna fantastico andiamo in giù e quindi c'è dove? si blocca io io il negro eh già ho coro vero? sempre stato sempre stato faccio un po' di luce faccio un po' di luce ma sei continuata a crashare? cioè sei crashato il mondo no mi si blocca mi si blocca frizza eh chi è che frizza adesso eh? chi è che frizza adesso? ah world in crime side chunking ticchintook 160 mili secondi sto pingando besties su server ma c'è ancora il negro con le meme quale? eh quelle meme bl eh adesso ricomincio da registrare guarda che bel suono io odio odio te lo spacco adesso eh c'è un altro qua guarda ma stai giocando in gto? noo c'è un altro qua guarda 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 c'è un altro qua no no stiamo su guarda guarda c'è un altro qua qua è qua è quà è quà è quà è quà è quà è quà e ho trovato vieni in gira vieni in gira qui oh che bel suono E' un peggio del vulcano? Ma no, è questo Ma chi? Ma dove? Aspetta, aspetta Cos'è? Cos'è? No, è abyssal stone Semplice abyssal stone Ma dove sei? Sono nascosto da te Perché? Cosa ti ho fatto? K Ma comunque qua c'erano i dark lapis lazuli che cercavi prima E non li caga proprio Vabbè Attento alla lava, attento Porco, porco E' solo una torcia La mia 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 La mia mia The nuclear rage addirittura Cioè Mine, peach, blend Ma io l'ho già minata Ah no, che non vale perché l'ha preso il query Giustamente Cos'è sta cosa? Filaxite Filaxite, non è un problema Veracromaticraft Eh? Avete girato? Girate? Ma è bellissimo, fa girare gli occhi di po' Bravo, viene a far una rapida con me Usage, non me lo dice Giustamente Comunque mi ha trovato il dungeon De-de-de-de-de devi scoprire qualche Glicigrafico per far vedere Anzi, aspetta, faccio il glicigrafico Basta che faccio, guarda, eh, Luca Hai due blocchi di redstone? No, ma va Non funziona Fai esc Funzioni Fai video setting Poi vai su qualità Ti fai meet map type E la metti in lineare E ti fa vedere Fri in dettagli Attraverso i blocchi Ma vaffanculo E ti metto tutte le torce attorno Così non mi blocca Perché ho la macchina di Toretto? La macchina di Toretto, ancora Tre ore di casino Eh, Zeta, mi hai fatto spendere tutti i soldi Però ce l'hai la macchina di Toretto adesso Sì, ho capito Ma cosa vuol dire, mi dici Fai Comprati le armi Cioè, ovvio Ma servono Servono Che cosa? Le armi Ho capito Ma non mi dovevi dire Prima di scopriarmi tutti i soldi Nella macchina Ma chi te l'ha detto di farti Tu Io l'ho detto semplicemente Di comprarti l'assicurazione E il GPS Fine Poi se te la volevi modificare Erano cazzi tuoi Non l'ho modificata Perché non c'erano i soldi Per modificarla Addirittura Non me la carica Giusto La bellina Eeeh Eeeh Dovevo fare tipo una canzoncina con quel po' Ti metti l'autonomus che li colpisce Fare i timers Con dei timer Guarda quanti Cura Curauri Crystal Shard Sì, vabbè Non li impareremo mai Sti nomi No, noi non li impareremo mai Sti nomi E cliccare su un cristallo per esempio E io l'ho già sbloccato Vediamo, fammi vedere Vediamo, vediamo Vediamo Tira sto libro Tira sto libro Tira sto libro Ah è mio, ciao Ah dammi il libro Aspetta fammi vedere un attimo Allora Clicca su Sì in alto a sinistra In alto a destra Scusa Clicca su in alto a destra C'è tutti gli obiettivi Allora Orbs of energy Pylons on trees Seem to spawn oddballs of energy They don't see in particolare Useful battle list Sì ma non capisco perché l'hai fatto Non sto nemmeno affugando Eh, guarda Cioè il tuo tentativo vano Di farmi morire affogato È fallito miseramente Scusa Bene, ma mi sei bloccato ancora Tranquillità di zitta Snervante Sì sì Io sono tranquillo Guarda, guarda come ti parlo Tra un Sacred burrows Patch of light Dirt dot And a nice landscape So nice I love our fight But not all Ah quindi Quindi questo Questo è Quel puntino luminoso Che abbiamo visto prima Dice Punti di light Di luce in giro per la mappa Può essere Spiegabile Che sia lava Oppure fuoco Però non tutte Questo cos'è Endless mob Dismetal cage Più Ford Endless creature Ok Buried hollow Surly man Treasor Lie underground Ah ricamela Ok Questi vabbè Ovviamente questi li abbiamo già incontrati Devil of hell Fabrication Elemental Hour RNS Oh mio dio Missing texture Gigante Tipo Sì sì Quella è la Ferma E questo è tutta Il libro Praticamente Che Non abbiamo scoperto Niente Va all'infinito Tipami Tipami da te Per favore Tipi No Stavo Tipandomi da te Che ce ne potremmo No Hai la cosa attiva Il No perché voglio vedere Se si sblocca Devo capire se è il chunk Il chunk Dice che Warning Client side Chunk Tut Ah questi bug Guardate Ciao formiche Ciao Ci vediamo al prossimo episodio Così a caso Ah a caso Cioè Ti provo Ciao Ciao Ciao